Eccolo qui! Eccolo qui il giochino, vero! Vediamo un po' che cosa c'è scritto dietro Allora, c'è scritto... LOL Surprise! LOL Surprise, tavolo luminoso delle LOL E se è sbagliato lo lei Certo! Schedane per i tagliari Adesivi Colori pastello Penna Lely con le LOL Teppere e palliate Manuale inestato E ora si inizia! Apriamolo Marti, apriamolo Eccerto Deve essere veramente carino questo gioco Bello Sì Anche io Quante cose La prima cosa montiamo la base Allora, montiamola infatti Quella è la base Scoppietta anche Allora, questa abbiamo montato il sotto Poi sopra ci andrà Marti Quella lì, la lavagnetta Bellissima Bellissima Che stava sopra Perfetto La lavagnetta magica E Marti che ha finito con la sua lavagnetta magica La LOL Sua preferita Eccola qui Quindi un altro gioco utile Marti Sì Com'è la lavagnetta magica E poi disegnate La lavagnetta magica Ciao 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 Marti Ciao Ciao No Ciao Ciao Amici Invece questo è il terreno Ve lo volevo far vedere Ma è bellissimo Marti Allora Dove ci può fare i braccialetti Tanti braccialetti Vero E dentro questa scatolina Invece che cosa c'è Sì Giralo Allora Qui ci sono tutte le perline Per farli Che uno è andato più dentro Certo Abbiamo queste qua A perlina Queste gigantine Queste qui Che sono con brillantini Cos'è quello che mi piace Quali? Questo 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 Ah E adesso abbiamo deciso di farle con le perline Colorate Allora Quelle lì infatti Queste qui Queste sono un po' meno colorate Sì Quelle sono proprio fatte a perla Infatti A perlina A perlina Si possono fare i vari tipi Vero Marti? Ad esempio Che cosa? Che cosa? Un tesoro E così almeno si perdono E certo Così non si perdono Allora Il filo del telaio Lo dobbiamo mettere Qui Qui si mettono i tre fili Agganciati a questo cuoricino Come vedete Sono tesi Vedete E si iniziano a mettere le perline Questo noi abbiamo fatto il metodo intrecciato E ci abbiamo messo anche i cuoricini I cuoricini stupendi Stupendi Marti Vero? Ti voglio fare vedere un po' cosa Che cosa? Ah E qui si arregge E' vero? E pure questo Qui si possono mettere altre perline O che cosa Qualsiasi cosa che vogliamo noi Vero? Adesso lo prendiamo E ve lo faccio vedere a braccio Certo Marti Buon lavoro Faccelo vedere finito Ciao ciao Amici Dandere l'abbraccialetto finito Faccelo un po' a vedere Marti Ma è veramente bello Date E' una meraviglia E' veramente bello L'abbiamo fatto Sì l'abbiamo fatto Cileste Giallo e viola E' veramente bello E' stato bello farlo Marti Ci vuole un po' di verza Poi ci si diverte Certo Poi ci si diverte Va bene Allora Dopo questi consigli Anche sul Braccialettino Che ci devi dire Marti Che c'è un giorno Viene Babbo Natale Ma sei stata buona Sì Ah Allora ti porterà tanti giochi Quando mamma Mi dice qualcosa Io lo fai E lo fai Quando mamma Ti dice qualcosa Poi vi faccio vedere Tutti 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 I miei carichi Che mi ha portato Va benissimo Marti Quando tanti Non mi interessa Va bene Allora ciao A dopo Natale Ciao Marti A dopo Natale Ciao 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 Continua a fare la brava Eh Sì Ciao 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 Sì 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 Vede mi il mio canale Activate la campanellina Ciao Ciao